Dottor Buccino, alla luce della sua esperienza, qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere ai giovani che si avvicinano o che vorrebbero intraprendere il ruolo di direttore sanitario? Allora, il messaggio che vorrei dare e che sono stato molto contento di essere stato contattato per la redazione di questo manuale, è al giovane di prima chiedersi che cos'è l'ospedale. Dopo aver fatto queste domande, cos'è l'ospedale, cosa c'è dentro, come si esplica l'ospedale nella società, vorrei che lui capisse che il suo ruolo è quello di orientarlo fra contraddittorie e contraddistinte tesi di variabili di efficacia, efficienza e politiche, politiche che magari tendono a condurla in un certo senso, mentre lui invece deve, tra queste contraddittorie di trasparenza, deve portarlo all'etica della professione medica e della trasparenza vera e propria nell'ospedale. Questo poi è il messaggio che vorrei dare.